Io mi trovo a Carrara dove c'è stato un incontro con i candidati di potere al popolo che io ho deciso di sostenere, la ritengo l'unica prospettiva per il nostro presente e il nostro futuro, il resto mi appare solo un gioco delle parti visto, rivisto, trito e consunto. Per questo sostengo il potere al popolo perché vedo la nascita di una consapevolezza nuova, diversa, che ci impegna tutti a guardare non più a dei piccoli cambiamenti che mantengono lo status quo ma a un reale cambiamento, una trasformazione della società. Vorrei essere con voi alla Spezia, con tutti voi i compagni, purtroppo il dono dell'ubiquità non mi ha ancora consentito ma ci tengo molto a che sappiate che sono anche con voi. Io sono legatissimo alla Spezia, a tutto quel territorio perché lì avevo un grandissimo compagno che mi è stato amico, fratello e maestro Gigi Fiori, un compagno partigiano che ci ha lasciato insieme un'eredità e un compito. Non soccombere davanti ai tentativi di cancellare la storia dell'uomo per sostituirla con la storia del danaro. Noi combattiamo per il bene comune, combattiamo per il senso della vita, per la dignità e per i diritti e questa battaglia non si fa con giochini parlamentari e trasformismi. Si fa, riaprendo, uso una parola forte, una prospettiva rivoluzionaria. Non si tratta qui di pensare alla rivoluzione bolscevica o a quella castrista, ma rivoluzionario oggi mi pare significare l'affermare che una democrazia autentica e realizzata può sorgere solo dal basso, appartenere al popolo, alla gente e agli esseri umani. Non può esistere una democrazia comandata dagli interessi economici di speculatori, multinazionali e potentati bancari. E allora noi dobbiamo costruire questa nuova prospettiva rivoluzionaria. Io vi auguro ogni fortuna per i risultati elettorali, ma sono solo un piccolo passo. Il lavoro da fare è prima delle elezioni e soprattutto dopo le elezioni, perché allo stato delle cose il gioco elettorale è una forma di, come dire, intontimento degli elettori. Noi non vogliamo intontire, noi vogliamo rendere consapevoli, diffondere consapevolezza e coscienza profonda del fatto che un essere umano è titolare di diritti e di una inviolabilità che nessun sistema economico può negare. Grazie. 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 Grazie.